Ieri era a 8k mentre faceva reaction come ha iniziato Gov è sceso a 4k Pokemon è letteralmente l'unico esempio che mi puoi fare in cui non ha perso spec Ma poi da tutti i giorni che inizi a giocare rimaniamo in 300-400 se va bene Ma a me mi pare che stiamo in 415 adesso sto chiacchierando E ho iniziato la live alle 5 e mezza Dipende su cosa tu hai basato le tue live Sei abituato alla gente a giocare è normale che resta quando gioca Ma sei abituato alla gente a fare il just chatting La maggior parte della gente ha fatto successo sul just chatting È normale che ci sia su quello Ma non vuol dire che il gaming sia morto Tanto dipende dal gioco Fai Minecraft guarda come torniamo a mille aspect easy No 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 ma mo non è più Ma ragazzi ma non è più periodo data Allora dipende dai giorni Dipende da mille cose Ma non è più periodo da mille aspect Non ci sono più le basi Attualmente non c'è più la pandemia Ci stanno troppe ads e la gente non guarda Twitch Dici s***** Sai che non ci avevo mai pensato a sta visione del mondo Twitch si è riempita di pubblicità e la gente si è andata a fanculo Oddio sai che non ci avevo mai pensato a sta cosa È interessante questa cosa qua Voi pensate che la maggior parte Voi s*****e Tra l'altro bellissimo nickname Pensa che un calo grosso su Twitch ci sia stato anche per le ads martellanti Quindi tu segui un canale Sei affezionato a quella persona Smetti di seguirlo per le colpa delle ads Non ci credo Tutti hanno accettato gli incentivi e si sono abbassate le ore viste globali È vero pure io l'ho accettato Tra l'altro sto mese Dicembre dovrebbe essere un mese molto profiguo Metà de novembre 103 ore di live Spalmate sul mese Quindi dovrei garantire per raggiungere l'obiettivo Tra l'altro a novembre non l'ho raggiunto l'obiettivo perché erano 130 ore Corcazzo e faccio 130 ore porco dinci 130 ore vuol dire tipo 5 ore precise Però sono andato a Milano Ho fatto delle pausine e dei giorni non l'ho saltati Quindi non ho fatto 130 ore Questo mese forse ci potrei rientrare Però regà effettivamente pure a me mi ha rotto il cazzo sta cosa delle pubblicità Veramente sta martoriando un sacco di gente Io più che dirvi mi dispiace che vi guardate le pubblicità Regà io infatti non ho mai insultato nessuno per le pubblicità Magari sì effettivamente molta gente si rompe il cazzo Però non avevo pensato a questa visione Ciao Johnny Che dice Venzone? Ammetto che quando mi becco 7 ads di fila In pre-roll chiudo instant In canali che frequento poco Io tipo gli incentivi non riesco ad accettarli Sono troppo un obbligo Vero anche che a me danno 80 dollari di incentivi Effettivamente io che vedo certe ads sono insopportabili Facciamo così va Se l'ha detto Johnny Creek Allora ragazzi Questo mese Visto che è pure dicembre È natale Visto che non vi posso fare il babbo natale quest'anno Quest'anno perché sto investendo per comprare un monolocale Insieme a Federica Non posso farvi i regali di Natale Quindi vi faccio questo regalo e questo mese Tolgo le ads Dalla live Vi metto una dv Ogni 30 minuti E ve lo faccio mandare ogni 30 minuti Da un minuto Ti piace? Un minuto di pubblicità ogni 30 minuti Perché non me lo fa modificare? Ma come cazzo ti permetti? Non me la fa toglie perché L'offerta sarà effettiva tra 16 ore Domani lo posso toglie Oggi vedo vede su che pubblicità Ce l'ho sentito in corso Vabbè Domani Da domani raga Sì vabbè ragazzi Ma sicuramente saranno dei meno di quelle che vedete raga Raga Io vi dico Mandavo una pubblicità Una 3 minuti di pubblicità Ogni 8 minuti 3 minuti di pubblicità Ogni 8 minuti Sai che Sapete che cazzo vorrei Quando ci siamo conosciuti Quando Dario Mi ha sgamato su roleplay Io facevo Mi pare Quanto era? Un minuto ogni 30 minuti Una cosa del genere Tu togli ma Twitch mette comunque i suoi L'altro giorno Brul ha fatto una live speciale Che ha cancellato senza pubblicità Ma arrivavano almeno 3 pubblicità E quella era Twitch Vabbè Però finchè Twitch Oh Regà Se si accumulano tra Twitch E E la live mia Di quanto diventano? No ma A me dispiace che vi rompete il cazzo Regà Perché Sapete quanta gente Quante tunnel Quanta gente mi entra da me Che è bannata da nanni Twitch Perché gli hanno rotto il cazzo Sua pubblicità Quanti cazzo ne entrano? Sono tanti Regà Non so pochi Più tutti quelli che invece non lo scrivono mai Perché ci hanno paura di essere allontanati Se ne vanno e basta Magari gente nuova che entra per la prima volta Dice Oh me sta simpatico sto streamer Lenovo Compra sto computer Ieri sera da Dario Non sono sub Mi sono beccato sempre 7-8 spot Se non c'eravate 10 anni Me ne andavo dopo 30 secondi Twitch E sta esagerando Comunque Grazie Johnny Per i consigli Tra l'altro pure Tra tutti i problemi Che sono andato a cercare Non ho pensato minimamente All'ADV Effettivamente Pur io quando entro nelle live Dei certi canali Sto lì un po' all'urcam E becco 12.000 pubblicità E dopo un po' me ne vado Perché mi rompe troppo Il cazzo Ho tolto i pre-roll Non ce l'ho mai avuto i pre-roll Data purtroppo Molta gente adesso Non si abbonerà più Proprio perché Non vede la pubblicità Ah si cazzi Guarda Ti dico una cosa Abrick Preferisco che la gente Guardi le mie live Il più possibile In modo poi da decidere Se lasciare l'abbonamento Piuttosto che entrare Un secondo Beccarsi nuove pubblicità E andassene a fanculo Secondo te qual è A livello di marketing La cosa migliore Perché uno dovrebbe entrare Primo impatto E abbonasse Che cazzo è sto matto in culo Quanti ce ne stanno Desti matti in culo Molta gente punta più Sulla massa occasionale Piuttosto che la fidelizzazione No io punto sulla fidelizzazione Ho sempre puntato sulla fidelizzazione Ma come fai a fidelizzare Se è così Se non ti preoccupare Mi pagano comunque Mi pagheranno di meno Per le pubblicità Ci metto una croce sopra Me le ripago con l'ADV Che faccio Vi dico una cosa ragazzi Se io mantengo Una media alta di spettatori Mi contattano le aziende Per fare l'ADV E quindi compenso Queste cazzo di pubblicità di merda Con l'ADV Che è meglio No Almeno non vi parte la pubblicità Vi faccio la dv Vi faccio un content sulla dv Però non dovete cambiare canale Cioè cambierete comunque canale Però sto qua Perché devo puntare Cioè praticamente la pubblicità E puntare la testa An testa Sì la pistola An testa la gente E io Ottavoni Ottavoni Guardi pubblicità Tredevi su casa Ma perché uno deve essere trattato così L'altro giorno Mi sono beccata Dieci pubblicità di fila Regà Dieci Se ho dieci da trenta secondi Fate il conto So a trecento secondi Di pubblicità Cioè praticamente passi più a guardare la pubblicità Che a guardarti la live È troppo una merda Adesso vi faccio vedere una cosa Perché ve la faccio vedere Voi lo sapete perfettamente Quanto io Sia molto critico Nei miei confronti E lo sapete perfettamente Però Adesso vi faccio vedere una statistica E mi dite un attimo Se è normale Questa situazione Innanzitutto Questo so io Questi sono i numeri Quando è che hanno fatto il decreto nuovo Per mettere le pubblicità A rompercazzo Ottobre No prima regà Prima Settembre Ok Guardate già Da agosto A settembre Meno 97 Da settembre a ottobre Meno 66 Ottobre a novembre Meno 18 Da novembre M'ho appena iniziato a dicembre Meno 114 Invece prima Prima dell'arrivo Di sta cazzo Di pubblicità De merda Si viaggiava sull'800 800 900 800 800 Certo agosto C'è sta il calo Perché comunque È un mese De merda agosto Cioè la gente va in vacanza C'è meno gente Ma poi mi sembra che ad agosto Boh Non so che cazzo l'avevo fatto E fa da ridare da settembre Se arrivate tutte queste cazzo Di pubblicità C'è sta in calo Fino a dicembre Ma secondo me è normale Confrontali con gli stessi mesi Del 2021 1161 957 agosto Ma stavo a giocare A Zelda 1200 Queste sono le medie Che ho fatto tutto Queste sono le mie medie Del 2021 Queste sono le mie medie Del 2022 Ci sta che sia calato Perché il 2021 C'era ancora la pandemia E ci sta E ci sta pure Che sia calato Il 2022 Di 2 Ma adesso sta proprio A piomba nel puzzo Ma non è solo il mio Cioè vi faccio vedere Il nannone Guarda il nannone Da settembre a ottobre Dio Cristo Ma vi sembra normale Sto calo Cioè da agosto a settembre 200 persone Da settembre a ottobre Altri 200 Ma non è normale Non so Ne live musicali Regà Mi faceva già A quest'estate Sì ma Dario e Brul Hanno altri introidi Per i spettatori È un altro tipo De gente Non va paragonato Noi Noi campiamo Di fidelizzazioni E poco pubblico Ma se quel poco pubblico Entra E non ricambia Quello vecchio Che se ne va Perché se rompono Il cazzo Dei pubblicità Non riesce a rimanere Così Con ste medie Eh cioè Sta roba è in dubbio Io ho smesso di guardare Molti canali Dove non ho l'abbonamento Per me Per me Influisce tanto Sta roba Ragazzi sappiate Che da domani Tolgo un po' De pubblicità Vediamo che succede Per tutti i non abbonati Resistete Perché Tra l'altro siete tutti abbonati Sto a vedere Per tutti i non abbonati Resistete ragazzi Perché da domani Non vedrete più Tantissima pubblicità Come adesso Capito regà No ragazzi Da domani non vedete più Uno di nove Se vedete uno di nove Parta la denuncia Me ne vado comunque Da tungo Vabbè sti cazzi Come la vedo degli altri Le avrei viste Comunque grazie Beh Comunque Prego Alleluia 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 Grazie.